Infiniti Car, abbiamo, vi portiamo a Cianodenza, abbiamo proprio, vi portiamo nel bel paese del castello di Canossa, così insomma visitiamo anche la nostra cara Emilia con una bella voce emiliana, quella di Rita, a cui do il benvenuto, buon pomeriggio Rita. Buon pomeriggio a voi. Lo sentite insomma fuori onda che a noi piace molto anche insomma l'accento, poi gli accenti italiani sono tutti belli però quello in particolare ci conquista. Senta Rita, grazie per la disponibilità, noi sappiamo che lei ha usufruito di un servizio che le ha permesso di rottamare la sua auto, ha utilizzato Infiniti Car, e allora ci dica un po' come li ha conosciuti e se si è trovata bene, insomma le è piaciuto il servizio? Allora, li ho conosciuti per passaparola, una mia amica mi ha informato di questo servizio, mi hanno subito risposto, sono stati velocissimi e sì, devo dire che mi sono trovata molto bene. Capisco, sono stati bravi, veloci anche nella prestazione? Sì, 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 mi hanno mandato dei moduli da compilare, dopodiché mi hanno messo in contatto con un demolitore che ci siamo accordati per il giorno in cui sarebbe venuto a prendere, a ricreare l'auto, basta, ho firmato le carte. E tra l'altro, ora, dopo poco tempo, mi è arrivata anche dal pra il documento che la macchina è stata rottamata regolarmente. Quindi insomma, tutto perfetto. E cosa ha speso per il servizio? Zero. Zero? Scusa, assolutamente nulla. Solo il tempo delle telefonate e basta, sì, assolutamente nulla. Infatti, sì, sono contenta perché, insomma, non si trova facilmente, io non so i prezzi, però so che si paga per far rottamare un'auto. Certo. Quindi Rita, a tutti quelli che, insomma, ci stanno ascoltando chiaramente in questo momento, consiglia di chiamare Infinity Car per rottamare un'auto? Assolutamente sì. Se si vuole fare il servizio gratuitamente, sì, assolutamente. E allora, perfetto, bella, un'altra bellissima esperienza, un'altra testimonianza di cliente soddisfatto di Infinity Car. Grazie mille a te, Rita, e un saluto a Cianodenza e Canossa. Grazie, grazie a voi, buona girata. Vi ricordo che se avete bisogno di rottamare un'auto, Infinity Car vi offre il servizio gratuitamente. Al prossimo momento, Infinity Car. Milano